Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida, io sono Altair e oggi vi spiegherò e vi mostrerò come tenere il trionfo ascolta con calma. Prima di continuare con il video però ragazzi vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale così da potermi supportare nel caso in cui vi sia stato di aiuto e vi sia servito il video. Come prima cosa dovete sapere che questo trionfo sarà momentaneamente nascosto fino a quando non troverete un'automa di Kalus. Per fare questo dovrete avviare l'attività recessione, dopodiché vi basterà eseguire la solita meccanica per sbloccare il passaggio nei tunnel e appena uscirete alla vostra destra dovrete andare vicino all'automa di Kalus e così otterrete il trionfo ascolta con calma. Unica cosa che ci tengo a precisare è che questo trionfo si potrà completare con il tempo, cioè ad ogni reset al martedì, un po' come succedeva per la Gliccone. Detto questo spero di esservi stato di aiuto e se fosse così vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Un ospite non invitato! Un ospite non si aggira per l'interiora del mio leviatano. Quest'appendice meccanica è in pessimo stato di manutenzione, incapace di vedere la grandiosità del tuo volto coraggioso. Vieni ora, più vicino. Vatti assaporare. Un'altra trappola. Io mi terrei a distanza. La nostra missione viene prima di ogni cosa. Riesco a sentirti, portatrice di luce. Il nostro ultimo incontro fu... Ostile. Ti perdono. Accoglimi e io condividerò con l'avanguardia meraviglia che neppure la tua misera luce può superare. Permettimi di aprire la tua mente e il tuo corpo, come accadde a me. Voltati e accetta con Gautio quello che verrà. Questa è un'altra trappola.